Sì, sono io ragazzi con la webcam del LongoCat E mi sono appena fatto male perchè la Peppy mi ha graffiato Quindi questa è una challenge in cui un video posso fare solo un livello e sto già facendo la pratica perchè è da un giorno che non riesco a farlo Giuro questo L'autore si chiama Meno e molti lo conoscono ma so già matri d'asci però come mi spiegate lui a un bot ogni volta che cerco qualcosa c'è sempre lui no davvero oh no 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 dai davvero sono morto ma come fa ma 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 come faccio a morire alla fine è possibile potrebbe anche laggare di nuovo questo non lo sopporto ma si può coprire nooo volevo fare la versione 2.2 nooo nooo Peppy Peppy ti ho dato il topino che c'è ora cosa? dimmi tutto e gioco ancora con il topino ok per agire per agire di copyright ho praticamente disattivato l'audio del desktop su streamlabs infatti non uso più bandica perchè streamlabs mi fa mettere questa webcam del bongo cat che adoro ok ok si infatti oddio santo non lo so non lo so non lo so aspetta fatemi fare una cosa a questo bongo cat ah no ora non posso non lo so rifacciamo le wave challenge oddio questa ok 10% commetto on bandiamo non è possibile se non lo so cos'è sta canzone aspetta o con la nabula aspetta è vero? aspetta aspetta che canzone è sta roba? ah dice solo questo ma con un remix non ho capito maffè ciao maffè non rubarmi il nome ma davvero ma come faccio a fare questa roba? ma tu mi prendi in giro vero? oddio oh questa canzone l'adoro l'ho già sentita? si si l'ho già sentita tipo in un livello bellissimo ma molto difficile ma va questa è una spam challenge quella canzone l'ho scaricata ma inizia oh non potete fare sempre così oddio dimmi che c'è? che c'è Peppy? mi viene fuori mi arrivo non puoi andare vai andate guarda ragazzi ho voluto appena la mia peppy ed è uscita la mia camera ed è uscita dalla mia camera oh questa me la ricordo stamo allora dobbiamo fare tipo allora qua paraparap oh oddio aspetta cos'è sta roba? davvero? oh io voglio fare la scelta ahahah non c'è nessun teleporter lì oddio oh voglio scaricare harder version col cavolo no davvero come fa la harder version ma no è un copypaste mi prende in giro ok vi piace la webcam? scrivetelo nei commenti oh no 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 non posso farlo non posso farlo ok no non ci credo ho fatto una pausa per sbaglio wave challenge jimmy dispa you suck ok find good no assolutamente questa roba find good acco rub rub eh rub rub come faccio come faccio Fabio no rara ciao faccio ciao ma dov'è? oh wow oddio no eh eh waterflame waterflame ma ma aspetta no non capisco waterflame ah posso saltare tutta la challenge no dai ma se l'ho cambiato musica hai cancellato qualcosa per verificarla davvero mi prendi giro e challenge seversoul vedete waterflame vedete waterflame non capisco oh andiamo perchè ci mettono troppo le canzone le canzone ci mettono troppo lo volete capire Dio santo se vengo con te ti faccio fare un nuovo aggiornamento la ti faccio creare il gioco 2.2 eeeh ma comunque mi date il link del download del geometry dash 2.2 eeeh no davvero eeeh no no non lo posso non ci credo no vuoi dire che è di coso di 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 non capisco cosa dice non mi importa ma come è detto un'oppressione non capisco oh oh questo lì ma davvero? oh bello 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 questo l'adoro questo l'adoro questo l'adoro non laga più ahhhh 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 we challenge all right oh ma come fanno a fare sti laser a caso nooo non mettete la velocità 4 neanche la 3 se mettete troppo veloce qualcosa aspetta jumper è un autore ma è anche una canzone oddio santo ancora lui ancora lui questo è un bot questo è un bot meno questo è un bot fa tutto ogni cosa che cerco la fa sempre lui è un bot ma doll posso dare un sacco di dislike a un commento che vedo tutti io ahhhh ahhhh odio esistere 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 la carta è un' partner dash che non occupa neanche un megabyte e neanche un kilowatt no volevo dire si un chilo aspetta questa è una completa non sono tagli fammela completa è troppo facile easy comunque mi è piaciuta oddio non mi importa concept date davvero hai aggiunto solo le monete non ci capisco niente tra l'altro non mi connette mai a wifi di questo gioco ha salvato lì non riesco a no dai dai limo limo notte io non ho completato neanche un limo consigliatemi di tagli ahhh che troll ok questa è easy eh no 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 come faccio a morire lì oddio controllo di non fare tipo qualcosa tipo quindici minuti più che non le pubblicherò mai quindici minuti che ho fatto è che ho fatto mi prendi in giro no è auto è auto no fatto bene a non scaricare la calzone non lo scarico neanche qua e oddio no 6 ore dopo aspetta è un hack è un hack non è un hack non è un hack questo livello è possibile e non mi è piaciuto per niente lol dai questo è normal ok questo non è possibile se fate ancora questi livelli brutti non li gioco ok e il challenge easy mi sono infocato appena la mano davvero dici easy easy eh easy vabbè raga io finisco il video qua ok mia 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 ci vediamo un'altra volta con una canzone di gatti miaia io ora devo fare colazione perché non l'ho ancora fatta miaia Grazie a tutti.